Buonasera ragazzi, buoni costituzionali, sono Ginkgover24, siamo qui su Black Ops 3 Oggi siamo qui per una una sessione breve non ho il PlayStation Plus, mi è scaduto da poco, quindi faremo una partita con altri bot, poi forse cominceremo la campagna ma non lo so il bigote ha anche la durata di qui, quando l'ho messo, buh vabbè madonna quanto si mette allora questo, questo voglio usare questa qui perché ho una sola arma però veramente abbastanza modificata, abbastanza dicono, abbastanza dico intendo tantissimo questa mappa la conosco bene il problema è che per caricare si mette tipo solo che tipo ogni ogni volta che carico mi dà un'altra idea di colpi 105 quindi per farvi capire quanto dura una sola cosa perfetto ho la minica più momento questo giacchino tutti con la minica no oddio, non è preciso ovviamente però oddio è una minica lei mi ha ucciso di nuovo quando siamo 14? 8 15 allora questo gioco come the order è di pixel man ci tengo a dirlo perché voi mi dite ma come avevi Call of Duty non avevi portato il gioco in play è per questo shit ho iniziato un poco a cedere ma perché il difetto di avere solo un'arma è questo perché così io posso solo usare sto cazzo di cose poi non ho granate non ho pistolette non ho nulla cioè io per una sola arma intendo proprio solo un'arma cioè non ho neanche granate e cose simili poi comunque questa è una mappa dove non è che si possa cambiare così così tanto io non voglio camper ovviamente però sarebbe più facile nascondersi in altre mappe che poi proveremo cioè al limite io questo video lo voglio far dura pure tanto però voglio fare più partite non lo so non lo so questa dura ancora 7 minuti quindi dovrebbe essere tipo di 10 minuti sono passati solo 3 minuti penso questo il problema è che siamo 18 quindi in piazza tipo ce ne sono 30.000 questo è il problema di fondo più che altro però siamo primi questo anno ah minchia la louis ci vuole abilità per non vederlo là vado a salire sopra stanno quelli stanno tutti in giù stanno quelli stanno tutti in giù a limite pubblica ho già finito i limiti dei punti quindi proviamo anche un'altra partita non me ne ho neanche ho reso conto no adesso volevo spara quello po' come vedete ovviamente non l'ho colpito mancuna volta Cioè io ho dato due colpi a un morto Perché ho un'arma potentissima Però non lo riuscivo a colpire All'inizio dell'esperienza Degli altri era tipo A soldato Quindi quella media Però non l'ho voluto alzare Quindi poi più la l'alziamo Ok andiamo Allora le altre due sono queste qui Specialisti Voglio cambiare Oh un po' di azione La madonna di cazzarizia Fattoria Zona di guerra Capanno di caccia Io lo so qua Mettiamo meno bot però dai Facciamo che siamo in dieci di tutti quanti ere Più Perfetto ica Cinque e dagli voglio cambiare anche tipo di armi mi ha spavano davanti a uno sono in l'acqua gli vedo la spina d'orsale bene forse ho fatto un errore a mettere il nome perché in effetti questa mappa è molto grande la cosa è una precisione pari a z ma poi va 3 a 3 bu non lo so non ho preso un'arma buona mi serviva un'arma un po' più pareggio 3 a 3 perfetto non c'è nessuno qua mettiamo qualche g4 non c'è nessuno cazze darmi g4 ah l'arma c4 che genio ho io ucciso uno con la c4 che avevo la prima la precisione è buona però usando il mirino dato che è un mirino ecco ti amo mi il mirino a calo come caxia zoom abbastanza lo posso vedere min madonna peccato che l'ho persa perchè mi sono mi sono messo sono volevo smertarci un po' su quella cosa però non mi sono perso per fortuna al stesso senso però quindi ecco sapevo che qua c'era 1 se poi non lo colpisco un'altra cosa c'era un altro niente il sesso senso funziona perchè non lo sa cos'è il petto vedete sulla mappa ci sono dei puntini rossi che indicano i nemici e quella cosa non c'è normalmente cioè quindi è utile eh sto perdendo di qualcuno sto starma che col è potente però questo mirino non rende perchè mi mi zooma troppo e non riesco a devo tagliarci il mirino andiamo a saputa se modificare minchia un pochino si ecco vedete che già mi trovo meglio cioè lo riesco a mirare meglio però stiamo attendendo comunque il passo certo potrei usarlo per tipo che ne so cicchina la gente da un posto il problema è che questa mappa è molto ampia è anche molto aperta tipo mi dovrei mettere qua no per avere la fortuna che nessuno mi veda vedi che c'era qualcuno dietro vedete che da media distanza non mi battono facilmente però se tipo sono più vicino ecco voglio mettere una granata qua così si fottano adesso gli dovrebbe esplodere cazzo è esploso prima io però cioè è esploso eh è scotta lo so che è scotta cacchio l'ho messo quando non c'era nessuno ho preso fuoco perlomeno si chiamano una vicina alle scale va da qua secondo me vado bene perché se loro non mi vedono posso volendo colpirli vipel eliminato vipel eliminato vipel eliminato mince salvella 16 18 madonna non stiamo andando bene 17 18 18 c'è uno dietro per vincere 30 perfetto 18 18 18 mi sono due uno è morto l'altro madonna quanti ne so anche una ma c4 l'ho messo troppo vicino il 12 no mi sono ripreso un poco mi ha spavolato dietro si un attimo l'altro madonna mi ha spavolato uff non l'altro madonna no mi ha spavolato l'altro madonna è un'altra